Società incorporate all'estero e acquisti immobiliari in Italia, più precisamente la domanda alla quale cercheremo di dare risposta oggi, cercherò evidentemente di dare risposta oggi nel video, è può una società incorporata all'estero con sede legale non in Italia acquistare immobili siti all'interno del territorio dello Stato italiano? C'è molta confusione e soprattutto sono diversi gli effetti a seconda delle circostanze, sia per quanto riguarda le imposte dirette, quindi quelle che voi conoscete come IRES, come IRPEF, sia per quanto riguarda le imposte indirette che in occasione di redditi immobiliari fondamentalmente si dividono in imposte di registro e imposte sul valore aggiunto, dipende dalle circostanze. Questa seconda categoria, questa seconda fattispecie, quella delle imposte indirette, è assai complessa e non può essere ristregata in questo video, per cui ti rimando a un video di futura fabbricazione che troverai all'interno del canale. Oggi parliamo di imposte dirette e più precisamente rispondiamo a questa domanda, la risposta dopo la seguida. Ciao, sono Luca Tagliera, te la edito sul canale di TaxPenning Internazionale. Iscriviti al canale per ricevere le notifiche, rimanere aggiornato in tema di pianificazione fiscale internazionale e lasciami un like. Alla fine del video deciderai se lasciarlo, se il contenuto di qualità ti è piaciuto o altrimenti me lo leverai, cosa che però ti auguro di non fare. Allora, torniamo a noi e rispondiamo alla domanda. Può una società incorporata all'estero acquistare immobili in Italia? La risposta è sì. Sic et Simpliciter, non ti faccio neanche arrivare come sempre alla fine del video. Lo puoi fare, assolutamente sì, non ci sono, come dire, limitazioni in questo senso, perché non si possono limitare gli investimenti. È contrario alla legge, sto ultra semplificando, ma questo è il messaggio che deve passare. Quindi se è una società incorporata a UK, forse anche a Dubai, forse anche nelle British Virgin Islands, puoi comprare immobili o un po' nel mondo. Oggi però chiaramente ci focalizziamo all'Italia, anche perché questi molti dei miei clienti partono dall'Italia, hanno già degli immobili, li lasciano in Italia e magari una professione patrimoniale, un'ottimitazione fiscale può avere senso confidirli in società italiane piuttosto che società estere. Questo è esattamente il caso. Le domande, la domanda principale che ci dobbiamo fare è questa. Che tipologia di immobili stiamo acquistando? Sono immobili strumentali all'attività dell'impresa e cioè rientrano in qualche modo nel nostro oggetto sociale. Per esempio, banale, quello di Airbnb che acquista immobili in Italia per adibirli a locazioni, quindi per farli rientrare nella sua attività di impresa. Quale è un'attività strumentale? Quello del reddito di impresa non ci piove. Se invece acquistiamo un bene non strumentale, siamo per esempio un'attività, una società che vende personal computer, che vende software e decide, incorporata in UK, e decide di comprare un immobile ad uso abitativo, quindi per locale, come dire, diventa un bene patrimoniale che metto a reddito in Italia per ricavarne un reddito parallelo a quello principale che è quello cioè dalla vendita di personal computer o dalla vendita di software o quello che volete, nell'esempio che stiamo facendo. Ebbene, in questo secondo caso si tratta di bene non strumentale. Al 99% quando un'attività, una vendita di business, incorporata all'estero, fa un acquisto del genere, non determina una stabile organizzazione all'interno della penisola italiana, che è il vostro principale rischio in termini di tastazione. Ma la distensione è questa. Se acquisto poca roba rispetto a quello che faccio, 1, 2, 3, fino a un numero ragionevole di immobili, che è da vedere, non esiste un numero fisso, diciamo 10 immobili, ma chiaramente da analizzare sulla case-by-case analysis, tendenzialmente è poca roba, non sono ben strumentali, non rientro alla mia attività di impresa, è difficile che determini una stabile organizzazione, posso stare tranquillo. Nella visione in cui evidentemente vado a comprare un villaggio turistico per metterlo a reddito, per darvi l'idea chiaramente della grandezza, vado a comprare un'operazione immobiliare complessa, acquisto un immobile o costruisco un edificio per suddividerlo in diversi appartamenti e rivenderlo, e allora la giostra cambia, la musica cambia ed è evidente che siamo in presenza di una stabile organizzazione che dà adito al reddito di imprese. La situazione invece più comune, quello che riguarda i piccoli investitori, le persone fisiche che si trasformano, che si trasferiscono per costituire poi il loro business all'estero e diversificare il ricavi di queste imprese attraverso beni patrimoniali, magari in Italia, o perché già li avevano per comprarne degli altri, allora tendenzialmente non diventa stabile l'organizzazione. Compro questo immobile, lo metto a reddito, ci pago le tasse? La risposta è comunque sì, tendenzialmente si configura un reddito fondiario, e questa è la categoria reddituale, la fattispecie reddituale a cui far corrispondere questa tipologia di income, la tassazione del canone di affitto sarà sul 95% del canone percepito, quindi il 95% della base imponibile è tassato. E posso applicare la cellulare secca? La risposta è no, non la posso applicare, c'è un po' di diatriba in dottrina, però fondamentalmente il mio consiglio è quello di lasciar perdere i cellulare secca per società non residenti che acquistano immobili in Italia e li mettono in affitto, la risposta è tendenzialmente no. Devo fare la richiarazione dei redditi? Sì, assolutamente sì. E chiudo, come dire, ricordando di quello che ho detto all'inizio, la situazione per quanto riguarda invece le imposte indirette è molto più complessa, articolata e intricata, e per quella tendenzialmente dedicheremo altri video, ma sarà sempre e comunque necessario l'intervento di un professionista. Se no, Luca, la gliela terra, spero che questo video ti sia piaciuto, se così è stato, clicca lì, cliccami un like, lasciami un like, se ancora non l'hai fatto, per approfondimenti clicca il link nella descrizione. Noi ci rivediamo nel prossimo video.